A poche settimane dalle elezioni quartese, scontro aperto in Forza Italia tra il candidato sindaco Francesco Di Criscio e l'ex fascia tricolore Massimo Carandente Gianrusso, nominato proprio lo scorso sabato subcommissario cittadino del partito dal coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico Siano. Uno scontro reso pubblico con le dichiarazioni di Gianrusso, che ha candidamente ammesso di aver fatto scurare manifesti elettorali di quello che fino a qualche giorno fa era il suo candidato sindaco. Dieci sei per tre pagati dallo stesso Gianrusso, che ha deciso di non sponsorizzare più la campagna elettorale dell'imprenditore Vitivinicolo. A farlo tornare sui suoi passi sarebbe stato il tentativo di Di Criscio di mettere da parte l'ex primo cittadino, visto come un ostacolo alla sua campagna elettorale. Un colpo basso, secondo Gianrusso, che ha così deciso di ritirare l'appoggio al candidato del suo partito. Non si è scomposto di Criscio, che dice di avere dalla sua, oltre che ai vertici del partito, primo fra tutti il nuovo commissario cittadino Antonio Pentangelo, nominato nei giorni scorsi, anche gli altri partiti della coalizione, Fratelli d'Italia, Nuovo Centrodestra e Verdi. Ma il candidato della coalizione di centrodestra dovrà comunque fare i conti con la nomina coordinatore di Forza Italia IV del suo principale oppositore, Massimo Gianrusso, che non sembra voler lavorare ad una riconciliazione. Intanto si delineano diversi scenari possibili, tra i quali compare anche quello di una possibile discesa in campo dello stesso Gianrusso, il quale sarebbe al momento incandidabile, in base alla sentenza del 23 gennaio scorso, emessa dal Tribunale di Napoli, ma in attesa che ai primi di aprile si discuta il ricorso presentato dall'ex sindaco, che potrebbe fargli ottenere una sospensiva. In tal caso il partito di Forza Italia potrebbe decidere di correre da solo. Altre ipotesi è che Gianrusso stia pensando di fare squadra con uno degli altri candidati sindaco in gioco, ovvero l'altro di Criscio, Gabriele, cugino dell'attuale candidato di centrodestra, o anche l'avvocato Luigi Rossi, entrambi attualmente sostenuti da una lista civica. Ma nulla è ancora detto finché non si saprà cosa è emerso dall'incontro che si sta tenendo in queste ore presso la sua abitazione tra Francesco di Criscio e diversi esponenti degli altri partiti di coalizione.